segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te certo però mi lasci dire che secondo me questa enfatizzazione di questi giorni di questa vicenda mi sembra un'arma di distrazione di massa cioè di spostare l'attenzione sui problemi concreti che tutti hanno a casa le bollette la ripresa economica l'inflazione su un altro tema che è quello diciamo molto molto più politico che consente di riempire anche le nostre discussioni e il pericolo è che accanto alla distrazione diciamo del pubblico dell'elettorato si distraga anche il governo perché il governo dovrebbe essere concentrato sulle priorità non sul litigare con la francia l'immigrazione è sicuramente un tema da mettere in agenda ricordo che con fatica il presidente draghi era riuscito a far firmare insieme al presidente durante la presidenza macron dell'unione europea un accordo che prevedeva una ridistribuzione certo non attuato bisognava lavorare bisogna lavorare sull'attuazione non su smontare quell'accordo quindi io credo che ci siano delle grandi motivazioni perché l'italia alzi la voce sull'immigrazione e guardi le dico non solo per il confine marittimo perché il vero luogo dove arrivano gli immigrati numericamente più importanti in italia non è il confine marittimo ma è il confine terrestre quello con la slovenia di là arrivano i flussi maggiori quindi paradossalmente poi lo sappiamo noi abbiamo sempre 500 mila immigrati nel nostro paese questo è il numero generale questo vuol dire che entrano ed escono perché il nostro è un paese di transito non è che vogliono restare qui vogliono andare dalle altre parti in effetti ci sono la germania la francia hanno il triplo il quadruplo di richieste di asilo rispetto all'italia che dovrebbe essere assurdo rispetto alla discussione che stiamo facendo invece questo testimonia che il nostro è un paese di transito quindi forse un po meno accelerazione demagogica su questi temi un po più di concretezza e anche un po di rispetto per un altro tema e chiudo che quella comunque della salvaguardia della vita umana perché comunque stiamo parlando di persone e ogni giorno abbiamo notizie di morti nel nostro Mediterraneo e peraltro ci sono altre navi già centinaia di altri migranti sono attraccati nella notte in sicilia e altre navi alle viste tanto per capirci non è una questione che si può cristallizzare o che diciamo è uno scatto fotografico allora subito pubblicità riparto da toglie